iCode permette ai bambini di creare storytelling digitale. Nella nostra scuola abbiamo intrecciato questo nuovo strumento con la progettualità già in corso durante l'anno per creare storie animate. Il tema progettuale dell'anno era dalla terra alla luna. I bambini e le bambine hanno condiviso alcune scelte. Creare lo spazio fatto di tanti pianeti, disegnare una serie di razzi che potessero viaggiare tra questi pianeti e rappresentare le stazioni spaziali case dei razzi. Sono state così definiti gli obiettivi verso i quali indirizzare la sperimentazione. Ci devono essere più razzi perché nello spazio ne volano tanti. I razzi devono essere colorati perché nello spazio si vedono meglio e ci vogliono le stazioni spaziali perché se no i razzi non sanno dove andare. Abbiamo realizzato gli elementi indispensabili per creare la nostra avventura. Lavorando contemporaneamente alcuni bambini hanno realizzato il grande scenario dello spazio. Altri si sono occupati di creare i razzi. altri ancora hanno iniziato ad importare le grafiche dentro il tablet. raccolti tutti gli elementi dentro il tablet usando la funzione touch, i bambini hanno incominciato a creare dei tragitti simulando il movimento che avrebbero dovuto compiere i razzi. infine grazie alla codifica dei percorsi mediante le tessere abbiamo creato tutti insieme semplici ma su gestivi movimenti di volo libero, atterraggio e decollo.